Ho portato gli attrezzi del mestiere Eh sì sì Eh già Allora L'unico Inimitabile, il primo E poi siamo passati anche al next level Giustamente, come I veri unboxatori Esatto ragazzi, anche voi non lo sapete ma Ecco Ah, bilancino e guanti Ma che guanti? Eh sì sì, scusa Ovviamente l'ho portati anche per Dario Eh E che fai? Che fai? Non glieli porti a Dario? A parte l'ho dato un po' di... Mi è successo? Vabbè, però è vero che ti ho mandato un po' di fia, si spera Si spera ovviamente Boh, grazie a Quadrato X Chiocciola Claudio Canetta al mio Instagram Levate tutte le... Prepariamo per l'opera, l'opera d'arte Vai Uuuuh Imperfetto Esatto Allenatori Eccoci tornati qui con il primo bot di Spade Scudo Si apre Bellissimo Imperfetto Stile Patrick ragazzi Poi devi fare tutte le mosse, capite? Devi fare tutte le mosse così Come se lo insegna? Insegna Si vede Anche i lati Si, i lati Ma sai che poi io in video per farlo vedere faccio tipo così faccio Eccolo Bellissimo Ah, mi devo mettere i guanti Dario, io ho... Veri, io le ho presi... Prostatite? Io, veri, io le ho presi per lui, eh L'obiettivo è Zazian Gold Minchia, ti immagini? Cosa posso spaccare se lo trovo? Vai Io ci sono Allora, vai, apri Benvenuti in questo nuovo spacchettamento Con il nostro nuovo box di spada e scudo Chissà cosa ci possiamo trovare L'obiettivo ragazzi è il nostro Zazian Gold Lo troveremo? Chissà Lo sculo Federic entra dentro di noi Incredibile Allora, innanzitutto vediamo la pellicolina di plastica Che dovete mettere, mi raccomando, nella differenziata Ditelo anche alle vostre mamme Questo non lo vediamo Il pubblico preferito Poi leviamo il goldone esterno Faccio così, vedi? Poi tiro in dentro e faccio questa mossa così Rovinati mille pacchetti No, 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 aspetta E poi fai Aspetta, questo non l'ho mai fatto Aspetta, facciamo la smr Sì, sì, sì Capite? Se no è questa sensazione Allora, facciamo così Una pila a te e una pila a io Vai Io a sinistra Perfetto Ok, bravo Sempre a sinistra bisogna andare Sì Cioè questo sto praticamente Sto vedendo i miei segreti Lo faccio tipo E abbiamo qui 10 pacchetti Aspetta, non mi riesce mia a fa... No Eh, vedi? Non mi riesce mia Aspetta Vai, vai Eccolo E' un mezzo Guardi più Tipo No, zio, non mi viene Vabbè, dai, pace Sono stato 24 Tanto sgrilletto Vai Sono stato 24 Allora, pensiamo Pensiamo Un bel tocco di fumo No, si scherza Mi dissocio Devi fare questa mossa così Vai Pilancino Ok Aspetta, però Facciamolo Rivolgiamolo verso il loro Che così vedono il peso No, scam Abbiamo un 22 8 90 90 Per far sì che ci sia Non lo so perché questa è la prima volta che le peso Non le ho mai pesate 22,90 Si mette qua E via Dopo off camera Andiamo a pesarci coglione Eh, eh, vedi? 94 Eh, quindi forse No, aspetta, aspetta C'è la rara 95 È un po' Perché fa così? 94, 94 Si è stabilizzato Va qua Quindi Dario Che facciamo? Proviamo bene? Allora, proviamo se funziona la cosa che hai detto Ok, questo è tuo E questo è mio Dai Mi devi abbonare un pacchetto però Sì, sì, no Questo poi te lo vi do Ok, ok No, no C'è la tecnica Come c'è la tecnica? Tu fai così? Eh Guarda Sì, ma così le sfondi, zio Non ho scelto niente, guarda Preciso, guarda Non so, ho paura Perché io sono ruzzo, capito? Facciamo vedere il codice solo Federico lo fa per voi Codicino Codicino È un po' Non sai quante volte lo faccio io questa cosa in live? Un po' Prova Adesso tu puoi fare Puoi fare È più difficile Lascia la Vai, vai, vai Uno, due, tre, quattro Sì, questo E poi Poi puoi fare o così O fa insieme a Federico Fai Uno, due E là Perfetto Questo lo facciamo anch'io Perché gli americani poi fanno Energia E ping E non vanno Boh Aspetta Uno, due, tre, quattro Guarda, fai così, petto Fai così Ok Fai così e dovresti fare energia Mostra l'energia Energia Vedi? Ah Vai Facciamo una per una Dai Allora vai Abbiamo un bellissimo Gasly Energia foglia Rooki D Ductrio Io non faccio così Ma non la stai Vai Ha detto Nel centro Pokémon Snum Aspetta Aspetta Sto perdendo lo scuolo Ecco Sto cercando Ok Eccoci Rewile Recupero di energia Buio Roselia Vedi che il bilancino Lo vedi il bilancino Vedi Eccolo il bilancino Lo sento il bilancino Vai Eh lo percepisco Eh lo sento Vai Eh lo percepisco No è diverso Eccola Ok Cincio Eccola 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 Vai 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 Un'altra Tre due uno Vai Oddio Oia Eccola Morpeco Sculata ragazzi 570 euro Aspetta Ci deve essere un motivo Per urlare Però Questo è bene Non bisogna urlare Per questo Questo è un urletto Medio Ma perché poi il bilancino Aveva segnato il tuo pacchetto Più pesante Perché Perché Morpeco Pesa di più No dovrebbe pesare più Esattamente Dovrebbe pesare più questo Comunque abbiamo Uno stujurné Bellissimo ragazzi Poi dici perché mi dicono Che io Ma queste sono le tue Me le trucco Capito Però tecnicamente Sono le sue Quindi fa parte Lo sculo federic Questa roba qua Ora io apro Il mio primo pacchetto ufficiale Che questo è il mio mazzetto Ma non vuoi pesarle quindi No No vado così Troppo tempo Dice Sì infatti Io ce l'ho rinunciato Dopo ancora Un bellissimo crabby Coloratissimo In perfetto Stile federic Un mincino Questo è veramente carino ragazzi 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 più volte Sì sì Pony Tartigala ragazzi Ecco Sgrodolo mitifico Cotonin ragazzi Scorbano Basta adesso Basta Alla prossima Lo devi dire Ok Wow ragazzi Sarazzol Però stavolta l'ho messo prima Vedete così Vi sa Ductro di prima Vabbè Sempre le stesse carte di prima Oh mazzo delle reverse Ragazzi Attenzione Qui c'è un ca Oh Che fondo Questa vale Guarda così Oh Oh ma sti pacchetti Sono fortunatissimi Tre pacchetti Infatti l'ha portati te Se era una mia Figurati Oh mazza che culo Questo è bellino Adesso abbiamo la coppita Vincente Guarda Vedi Ce l'abbiamo tutte e due Eccolo Eccolo Per chi gli gara Picchieggere un tofilo E chi gli garbano le tinne Allora ci siamo Energia Palloncino Ah il famoso palloncino Pogibimbo Eatmore Codicino Balto Vulu Ragazzi Poi mi si incanta la macchina Ah ma che pacchetti sono qualcosa di allucinante Bro Quattro pacchetti 3b e una full art Questa cosa non ha senso Basta Sono i pacchetti del Frederick Story Io questo Era chiuso Sì 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 L'ho visto Non l'hai rimbustato Ma era Questa cosa non ha senso Secondo me qui non c'è niente Blonde Per la probabilità Si infatti C'è sempre qualcosa nei pacchetti di Frederick Allora ragazzi Posso chiamarvi ragazzi no? Sì Allenatori Pacchettino di Snorlax Io voglio pesare un po' ste carte Perché io mi sono portato il bilancino Mi hanno detto tutti Porta sto bilancino Porta il bilancino Io adesso io uso il bilancino Perché 2280 Allenatori Allenatori 2288 22 e 78 Spazzatura No ragazzi Io non posso spacchettare Non ho i guanti Non posso Toccare 22 e 70 Via Via 22 e 85 Via Ma questo era 90 Era 90 Ma secondo me 90 90 Questo qua c'è qualcosa Io ho qualcosa Sì sì Questo lo tengo per poco Questo Non c'è il cazzo Puzza 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 un botto Vai Mi si scarica la batteria E questo poi muore Ma quanto dura Scusa E io devo ancora implementare una cosa Nei miei spacchettamenti Questo Vedere quanto effettivamente Il pacchetto è lungo Ma cosa c'è E poi te lo spiego Poi te lo spiego Codicino Abbiamo Pinchur Bibu Vulpix Bibu Nikli Bibu Bailo Nikita Balto Bibu Cim Bibu Energy Sgrunt Bibu Linone Dical Bibu Scambio Energy Bibu Bisha Bibu Attenzione ragazzi Morpeco Tra l'altro Raro E va Bella però L'art Perché è bellissimo Troppo bellino Il disegno del Ghibli Vado io Bibu No io non trovo niente qua dentro Perché Non pesa Abbiamo già trovato troppo Il detox è già finito Possiamo anche ridare indietro i pacchetti Al Federix Store Adesso Sui giorni Mouchan Con la puzza dal Niente Darion Tocca a me Io mi sento fortunato Grazie a Pokemon Next Senti come profuma Senti come profuma Questo profuma Energia Scambio di energia Bisharpino Salazone Grazie a Simone F500 Che poi io sai come sono abituato a spacchettare Con la mano così ogni tanto trema anche Dopo ragazzi vi spiegherò perché mi trema la mano Durante gli spacchettamenti Si è emozionato No Si inizia bello questo Guarda come corre Il calciatore dà la magica questo Guarda è bello Francesco Totti Un capitano C'è solo un capitano Un capitano Io vedo la Zacian Gold ragazzi C'è questo Quello Arriva Federix non ti preoccupare C'è del vibranio nel prossimo pacchetto Del vibranio Ragazzi comunque no Io sono curioso Stavo parlando via con Claudio no Dato che noi Cioè adesso noi siamo ancora in fase sperimentale Stiamo lavorando con lo store e tutto Se qualcuno ha acquistato dallo store Mi fate sapere per favore qui Se la spedizione è stata rapida Se non vi è arrivata Però serie Rapidissima Non mi è arrivato Lo sapevo Non si possono chiedere queste cose No ma non ha senso Non si è arrivato in 8 minuti Io ho ordinato due mesi fa Non è arrivata mai Grazie A me è arrivata la foto del cazzo Ho sbagliato Codicino Allora Sai cosa sei te Federix Sei un fantasista A me piace essere fantasista Ragazzi Dai 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 mi sto già Già sia normale Oddio Oddio Scusa se mi tremano le mani Dario Oddio Ragazzi Ok vai vai Ma poi tanto si cambia dopo La telecamera Scusa scusa Oddio Non volevo romperti il setup No non è più così Dario mi tremano le mani Come faccio Ce la fai Ce la fai Dai credo in te Credo in te Mi doveri un gembraccino Ti doveri un gembraccino Bravo bravo Dai 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 Scrappandhi E Non lo so 25 30 Boh E' fresco Ma guarda che bella Dario Non l'ho mai vista Guarda che cosa hanno combinato Ecco qua, bella però Bella effettone Vale otto sacchi di grano Che hai fatto? C'è del vibranio Abbiamo trovato già troppo Aspetta Qui ho sentito del vibranio di quello pesantissimo Ma abbiamo trovato già Sì c'è del vibranio pesante Aspetta aspetta Facciamo una prova Quanto pesa? Questa è la carta che secondo me pesa Questa? Quanto pesa? 1,98 Quindi se è ruvida dovrebbe pesare Questa è una comune Quindi vediamo un po' 11 grammi in più ragazzi Aspetta vediamo se questa qua pesa Quanto è la tua Preciso Preciso Aspetta raga non è possibile che c'è un qualcosa altro È il vibranio Raga abbiamo trovato un box fallato Questo è il box di FedEx Allora ragazzi Dai vediamo No aspetta Pyward Sizzlipede Proprio Iceman Però è energia metallo Itmore C'è ansia ragazzi C'è ansia Zassian Voglio Zassian full up Ti immagini si trova doppia Impossibile Impossibile Amo normale Come pugno normale di Septama E ancora vai Singris Calciatore Totti Totti e Bello Bello Vmax Caricino Ma bro ma quante cose abbiamo trovato Tantissime Dario Questo è il perfetto Dario guarda quanta merce Tante tanta roba Tanta 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 roba per citare un altro Andrea devi dire una cosa in live No o se mi fa bannar mi cazzo No 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 Chi è vai Andrea vai Io ti domando perché Nelle box che ci dà fede Noi non troviamo un cazzo E tu trovi il mondo Sta cosa non mi va bene Io posso reclamare molte del store Eh puoi farlo però Comunque continuerai a succhiarmi lo scroll Troviamo ancora la full art E troviamo anche l'hyper Ok proviamoci dai E abbiamo Oh questo qua ti piace questo Pokemon Club Puss Sì Carino Mi piace come linee volute Salaso Piatto di metallo Che abbiamo trovato prima Gold Cossiflau Goldino Diglettino Scorupino Uduttino Rosellino Rosellino E attenzione E Gengarino Che ce ne ho 40 però Ok Stai entrando un po' troppo Sei il te che imiti me Che imito te È un po' È un po' complesso È un insertion È difficile adesso Dario Perché tu poi no Mi influenzi tantissimo Io ancora devo trovare il video Che faccio Ma non credo Ave l'ho mai sentito Da dove mi è venuta quella roba A caso Poi mi scrivono su Instagram Nell'ultimo video Fai affinare Io sono costretto a farlo Sono costretto a farlo Perché sennò poi mi dico Sei la tira che non fa Io mi diverto Cioè fosse tutti così Eccolo Questo pensava Questo ragazzi Non riesco a tenerli in mano Eh la madonna Non riesco Non riesco È troppo pesante Dario Vedi Vedi Sì sì hai ragione Cioè questo pisa 30 centigrammi in più Non so se mi spiego Guarda Questo ce lo mettiamo qua Ce lo mettiamo dopo Le cose grosse alla fine Ma sconda quel pesino in edicola No no ragazzi Non lo fate ragazzi Sono edicolanti che le pesano loro prima Sì è vero è vero Però io l'ho fatto L'ho detto più volte Che per esperimento l'ho fatto Ecco Volevo provare Ma non lo fate Non lo fate raga No no Questo è Federica a fine vita Non così No Più più le più le Exact Oh Tapu Koko Koko V Ma c'era Non lo sapevo nemmeno Bello Tapu Koko Questo è importante nel competitivo Perché il pica grome si può giocare Solo grazie a questa adesso Ok Cioè solo grazie a quella Insomma è una buona carta per quella Ragazzi Va molto anche in base all'ostri Certo L'ho partorita questa eh Dal cazzo l'hai partorita È da là che escono Abbiamo rovinato Abbiamo traviato anche Pedriche Totalmente Vai 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 È da là che escono in realtà Ok Qui non c'è Basta Basta Dai l'ultimo panchetto La speranza è nell'ultimo panchetto Metti la mano qua Tipo Yu-Gi-Oh no È presente quando si mettono proprio Il simbolo della Manto energia Vai 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 Ragazzi Uno Due Tre Quattro Non lo so Dario No dici no Abbiamo toppato Mi sta disegno C'è qualcosa C'è qualcosa Vado via di Asa Ma chiudo tutto Poi 3 sega C'ho la villa Assicurata Vabbè Carino con la stalla Che te l'hai mangiato Le pokeball Non si è capito Nella carta Cosa cazzo fa Insomma c'è la B Zacian Che l'ho già trovata Mega ball Quella che la pari di più Posta Vabbè un po' di anche Vabbè filmandolo Sì sì Sono il fratello Scorbandi Eccola Ascelo Peccato Pensa così tanto Esta merda Vabbè ragazzi Comunque Ricappino Abbiamo trovato Un Delmais V Un Tabukogo V Un Cremorant V Un Morpego Sempre Uno stranagione V Poi abbiamo trovato La classica V Max Che in questo caso È Morpego Quindi doppia Mary Che comunque È una delle carte Più ricercate del set Quindi Mary È veramente Interesting Bellissimo E poi ragazzi Sul piatto d'argento Il piatto di metallo Senti queste Il piatto d'argento Sul piatto di metallo Ragazzi Ma dove lo trovate No io di un bel così Comunque è bellissimo Vedi Bello Praticamente abbiamo composto Quasi l'exodia Con tanto di Vabbè avete capito E comunque è bello C'è un box Nella media Cioè se invece Vediamo Quello di Dario Vediamo quello di Dario Dario ha trovato Puzzacarta La V Max Ma non ha trovato Darion Non ha trovato Oggetto segreto Vedi ha trovato 4 B meno Cioè questo da notare Lo sculo Dario Lo sculo Federic A confronto Fortuna Federic Fortuna Federic Questo è il confronto Tra Dario Dario E questo è Federic Cioè ragazzi Capisci Darion Capisci Darion Eh Eh sì Fa tocare ragazzi No dai dai Siamo stati molto bene Dai Ti ringrazio Grazie a tutti Grazie a tutti